Se ne è bene, gocci, io preso la voce, ok, preso la voce, con cui la scipare, qui, dagli otto sci, fuori ci dovete abbraccare l'azione, il piede destro è già nella posizione giusta, questa gamba, la sinistra, non deve andare contro nessuno, la dovete aprire all'esterno per buttare la pancia avanti e di conseguenza orientare l'uomo, forza, provate! Avanti e sotto con il mio valicello, la mano sinistra blocca sul fianco, da qui su, con la pancia della sua mano. Oh! Uf ita un bel, uf ita un bel, uf ita un bel. Oh! Uf ita un bel. Si, non è un bel. Grazie a tutti.